Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 fino alle 18 è chiuso il tratto in direzione Bologna tra il Bivio per la variante di Valico e Aglio, uscita consigliata provenendo da Firenze e Badia sulla variante di Valico. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pluneta. Sulla FIPILI lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!